POSATA LA PRIMA PIETRA DEL CANTIERE Per la mobilità dolce, con la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà la parte nord a quella sud, ricongiungendosi con le piste già preesistenti, a beneficio dei residenti e non solo. Per quanto riguarda la CAP, l'azienda del TPL Pratese si accollerà a tutti i costi dei lavori per un totale di 900.000 euro, lavori che saranno terminati entro la primavera 2019 e che riguarderanno anche la riqualificazione dello storico edificio della CAP in via del Romito. È proprio un intervento che cambia il volto al quartiere, ci si lavora da anni e devo dire grazie anche alla disponibilità, all'attenzione che la CAP, che effettuerà poi, ha dato l'incarico per i lavori, insieme all'amministrazione comunale, si porta finalmente a compimento un percorso che è durato veramente molto. L'opera è importante, fiste ciclabili, illuminazioni e parcheggi, appunto, e soprattutto questi 165 posti auto nuovi in una zona molto densa, in una zona che ne aveva bisogno. CAP insomma guarda lontano, oltre l'esito della gara per l'affidamento del TPL in Toscana. Recentemente hanno iniziato a circolare sulle strade Pratesi nuovi bus acquistati grazie al cofinanziamento della Regione Toscana nell'ambito del contratto ponte. Abbiamo sostituito 21 bus extraurbani, tutti Mercedes e Setra, quindi i bus di qualità superiore migliori che si trovano sul mercato oggi. L'investimento è stato importante, è stato finanziato dalla Regione e non è l'ultimo perché il contratto ponte prevede ancora per il nostro gruppo CAP altre 11 acquisizioni su un contratto che andremo a firmare nei prossimi giorni, dall'altro è un contratto nazionale che andremo a firmare sulla base di quello che è una gara CONSIP. È chiaro che questo aiuterà molto nel modernamento di tutta la flotta e quindi con l'ottica di dare un servizio migliore. Diciamo che CAP come Vetustà ha ancora una flotta abbastanza in linea con quelle che sono le altre città europee e questo ci aiuta a migliorare notevolmente riportando sotto dieci anni quella che è l'anzianità dei mezzi.